oh dio c'è un mozzi sopra no tappato bello tappato yes ma dai che non mi entrava il one tap no ragazzi questo one tap si è qua kevin 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 che cazzo va che è tappato tappato da vedere che minchia l'ho stuprato l'ho stuprato l'ho stuprato oh ma vogliamo morire oh ma che abbiamo baboso appena fatto è morto dentro site plant ah c'è la brice da qua sulla porta sulla porta l'ho stupendo lo so lo so lo so lo so c'è una dietro bomba firma 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 l'ho stupendo è morto ah ma cosa l'ho stupendo l'ho stupendo l'ho stupendo l'ho stupendo l'ho stupendo che l'ho stupendo l'ho stupendo l'ho stupendo l'ho stupendo ahahahahah ti hai usato fatto fatto dai? quarto green buono sto flasciando sto flasciando fatto uno nel bridge e ponte ponte cazzo uno di vita c'ho eh? aspetta che planta bim bum bam bravo